Nell'ambito degli incontri organizzati nello spazio della settimana fieristica, ACI Baribat ha lanciato un nuovo prodotto, ACI Storico. ACI Storico è lo spazio dove i possessori d'auto d'epoca condividono la propria passione divertendosi insieme. Il nuovo prodotto lanciato dall'ACI che interessa ovviamente tutti gli appassionati dei veicoli storici. Noi ci stiamo avvicinando e approfondendo il tema in maniera molto professionale in quanto a prescindere che offriamo una tessera particolare ACI Storico e con questa tessera l'appassionato di veicoli avrà la possibilità di avere un soccorso stradale valido per 10 veicoli e quindi molti appassionati come tutti sappiamo hanno tante bellissime auto nei propri garage e sono auto che non sempre sono usate ovviamente e quindi a volte sono particolarmente delicate e quindi saremo vicini a loro per questo ulteriore servizio che offriamo da un anno dall'ACI. Poi ovviamente organizziamo degli eventi, siamo vicini quindi a tutte le associazioni locali perché io parlo dell'ACI Baribat locali che diciamo hanno i tesserati amatori di questi veicoli storici. ACI Storico nasce nel 2013 per creare eventi e vantaggi per tutti i possessori di auto storiche. L'ACI ha creato una lista chiusa alla quale si fa riferimento l'ANIA e dà in questa lista chiusa una serie di agevolazioni. Come ha accennato il Presidente, ACI Storico crea eventi, eventi sul territorio e noi stiamo lavorando per questo affinché questi eventi diventino sempre maggior numero e siano sempre portatori di questo interesse e di questa passione. I soci ACI Storico avranno dei particolari gadget, a parte una spilla dedicata e una cravatta dedicata ad ACI Storico anche un abbonamento di grande valore, ruote classiche che è il must per tutti coloro che vivono il mondo delle auto storiche. Quindi invitiamo tutti a recarsi presso la nostra sede. Noi siamo come ACI Baribat soci fondatori di ACI Storico, quindi questo è molto importante perché possiamo dare ulteriori vantaggi a tutti coloro che vogliono aderire a questo club e anche a tutti quei club che a loro volta vogliono partecipare con noi a questo progetto per il futuro della storia. Grazie. Grazie.